ecco questa sera ho 60 secondi di tempo per farvi vedere una visuale spettacolare sì, la tromba non va in vacanza, c'è una playlist sul canale del prof di tromba che rimarrà sempre a disposizione con degli esercizi di tecnica di base ogni lunedì sul canale del prof di tromba una diretta per tutto il mese di luglio e di agosto ma basta con le chiacchiere, andiamo, vai strade stiamo arrivando a Serra Santa a 1348 metri sul livello del mare grande strade noi c'eravamo ora, ai nostri piedi abbiamo Gualdo Tadino dopo le colline Assisi dopo le colline Perugia è Gumpio e questo è l'eremo di Serra Santa un abbraccio dal prof di tromba saluta strati ciao grande strade ciao ragazzi ciao 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 ciao